Ma ben ritrovati su Dark Souls 3 e come avevo promesso... No, non ho promesso nulla nello scorso episodio, vabbè ve lo dico adesso. Dato che l'episodio sarà piuttosto correlativamente corto rispetto agli altri, direi di andare a fare qualche quest che non abbiamo... che abbiamo in sospeso, tipo quella di Leonard che ci ha dato la chiave... eccola qua. Sì, pare vi sia un prigioniero... uno spettro scuro proveniente da terra inghiottita dall'oscurità, appunto, andremo a fare questa, vi dico anche dov'è, così non vagate come dei morti in giro per il mondo. Eh sì, esatto, dalle mura del castello di Lothric, secondo, fallò, scala a destra e tutto il resto... Va avanti, sì... No, col cavoletto! Tac! Ah, gli sciottiamo! Siamo veramente fortissimi, lui non si è accorto di niente... Non si è ancora accorto di niente, è fortuna! Qui, 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 eccoli qua i piccoli, piccoli antipatici... Fortuna che l'equilibrio è aumentato, eh! Sì, con un punta a spigli mi ha... mi ha stabbato... Dove devo andare adesso? Aiuto... ah, qua giù, qua giù, qua giù! Dove ci sono anche delle brutte persone... eccone una... O solo una, mi sembra... Piano, non facciamo, sono d'accordo... Ops! Mi è mancato! Vabbè, a prezzo tentativo! Ah, ancora vivo! Eh, volevi essere ancora vivo... Eccola qui, la stanta ascensore! Infatti, ho usato chiave e la stanta ascensore, ci ho messo un po' per cercarla anch'io, sì! Ok, così non precipito nel vuoto più totale... Come ho già fatto parecchie volte... Ah, siamo già arrivati! È fortuna che era la stanta più in fondo, eh! Sì, non chiedevo di fare... Ah, ma uno spirito... Ah, uno spirito oscuro che è... È il momento di felicità! Uno spirito oscuro messo lì a caso! Aspetta, non se ne accorge se andiamo piano... Sono d'accordo... No! Non ce ne accordo! Quanto equilibrio... Quanto equilibrio ha, veramente! Ops! Mi ho mancato! Ops, mi hai preso! Sì, sì, con quella paremi attacchi! No! Mi ha mancato per miracolissimo! Eh! No, no! Soddisfazioni! Fare un critico a uno spedere oscuro! Tac! E ora? Globo dell'occhio rosso! Quello lì, papadomi... Ma ha fatto veramente tutta sta strage? Andiamo... Ah, furia! No, ma siete voi che siete scarsi o è lui che è fortissimo? Non mi sembra che... Siano così forti! Li ho battuto dopo un secondo! C'è qualcuno? No! Mi sapeva se fosse Leonardo che si teletrasporta! Guardiamo un attimo... Ah, eccolo qua! Il globo dello... Sconfiggi il potatore! Allora, il globo dell'occhio rosso proviene da un piccolo reinghiutito dall'oscurità! Non mi ricordo più il nome! O forse proprio non lo sa nessuno! Alcuni hanno scelto di utilizzare il globo per altri scopi! Per seguire le loro orme diventa servitore di rosaria della Catedrale delle Profondità! Mmm, mi sembra che l'abbia già fatto! Ora torniamo da Leonardo un attimo! Chi l'avrebbe benedetto? Eccolo qua che è tornato! Il nostro Bloodborne! Non si incavola neanche se li lo chiamo così! Applauso! Applauso però! Mi piace! E se si diventa assicurato della tua duty, tu, anche, potresti diventare un finger! Ok, capito, mi sembra bello di averlo già fatto Ah, non ci siamo fatti neanche tutto sto danno, forse è meglio andare avanti, eh Sembro quasi un NPC messo qui a caso Ricordate, prima di andare avanti, dal ponte, dopo aver ucciso Orazio il Mutazio Quello lì che non parlava mai, che ha dovuto uccidere, non me l'ho fatto vedere perché Perché, grazie PS4, grazie Grazie, ah sei ancora qui, no no, proprio ancora qui, sei appena trasportata Eh, sì, sì, glielo dico, glielo dico Ah, interessante Comunque, no, non è così bello come pensate questo, questo anello, è semplicemente un, faccio prima a farvelo vedere Dov'è? 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 Eccolo qua Permetti di assorbire PW dei nemici sconfitti, il tremendo spirito giunse il quale distruggere Astora Ma fu sconfitto dalla spada del guerriero più nobile Vabbè, quest'anno intrappola lo spirito di un occhio malvagio, una creatura che devastò Astora Non conosco la storia di Astora Quindi non posso neanche farvi una lore Dovevo giocare l'uno, lo sapevo, dovevo O magari forse neanche quelli dell'uno lo sanno E via così Per evitare che tutti i papai rossi incavolati arrivino Tac No, ah, uno è caduto Uno è caduto, mi accontento, mi accontento anche di uno solo Di qua dovevamo andare prima che ci interrompessimo con la gordente E vedete qua c'è una porta Fallo Ok Che ci sarà di così speciale No, così è più figo Come non detto Come non detto Tranquilli, non c'è niente Non c'è niente ai dati Né nemici, né oggetti, né niente C'è solo un tavolo Con un calice piuttosto bello Ah, mezzo nulla Ah, però c'è una rampa Eh, come non detto Non c'è più una rampa Però c'è una lucetta in mezzo a nulla Nulla, nulla, nulla Chissà chi può essere Qualcosa di morto Cosa di Oh Oh Fa Si colpi così in ritardo Ok che sei lento Però, però così in ritardo Non me lo aspetto Ora che siamo entrati in combattimento Posso farvi la Nora finalmente No, ora si mette a Ecco, infatti Si mette a alita per terra E ci arriva il suo alito fin qua in fondo Posso farvi la Nora Allora Come potete vedere Walnir Il Signore Supremo Sta fermo con sta mano Ti prego Walnir Il Signore Supremo Ve l'avevo già detto forse Ma Walnir Vedete la corona che è in testa? Veniva data ai signori più meritevoli Nella sua terra Ma Lui Ha distrutto i signori di quella terra E ha calpestato le sue corone nella polvere Le corone si sono unite E è venuto fuori il suo simbolo di potere Quella corona Inoltre era un conquistatore Come forse ho già detto E Ho voluto accumulare sempre più potere E si è spinto fino a qui a Carthus Però qua a Carthus ha trovato l'abisso Che come vedete Ci sta circondando Ed è stato indiottito sia lui Sia i suoi soldati Che come potete vedere Sono sia questi Sia questi Scheletri Che gli scheletri spadaccini Ossia Quelli lì Quelli con gli spadoni Quelli con gli spadoni Ricurvi Eh Però È stato inghiottito dall'abisso Ma come Come prigioniero Non come governato No ti prego Ecco così Bravo Oh cavolo Ah si devo spiegarvi E infatti È stato dopo Sofferenze e sofferenze Nell'abisso Ha chiesto pietà agli dei Cosa che non aveva mai Fatto prima Cavolo però sei forte eh Però ha tolto relativamente poco Con una spadata così E gli dei per pietà Gli lasciarono quei bracciali E questa spada E per Per cercare una via Lungo l'abisso Infatti vedete che L'unica roba che lo tengono in vita Lo tengono Qui adesso Sono quei bracciali Maledetto Non riesco proprio a intuire Quegli attacchi lì Forse perché Non sono un Un genio Però se li tiri indietro Io come faccio a colpirti Non mi prende Oh Vedi che l'abbiamo tolto Davvero tanta vita Perché sono quelli a tenerlo qui Se no sarebbe nell'abisso Ma nell'abisso più profondo Qua siamo Oserei dire Quasi in superficie E se no Se no saremo noi Anche noi Dei non morti così Tira fuori con la mano No 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 Si mette a litare Ecco perché Nessuno Non usa l'alito Di uno scheletro Per questo motivo Oh Sono Sono al confine Sono al confine Aiuto Cosa devo fare Eh Si avvicina Però se vado sotto Io muoio No no Quella cosa Non la sopporto Che l'acqua Non si è compenetrata Per terra Vai Sono riuscito A capire un attacco Due attacchi Stai fermo Ti prego Oh nulla Ah Ok L'ultimo bracciale L'ultimo bracciale Siamo Non è complicatissimo Come boss fight Lo so Lo so E ora No Vorrei portare in vita Gli scheletrini Che sare Si ve l'ho detto Che sarebbero i suoi soldati Avanti Tira fuori la mano Da lì Tira fuori la mano Eh Si 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 Sei già in superficie E' quasi inquietante Come sta fissando Il muro Di Di niente Però adesso Che cavolo colpisco Che sta facendo Ah Sta risuscitando I morti Ho detto Ah no La spada La spada Ho detto Che sta facendo Non è che adesso Esce dall'abisso Eh Io ho qualcosa Che è stata colpa mia Anche perché non stavo capendo più nulla Lo stiamo spingendo giù A forza di colpirlo Mi sa che è No E' alita ancora Tutte le volte che accendo Ah no No non sta Eh si si Alita 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 Tutte le volte che accendo La registrazione Si metta ad alitare Però Un bel primo piano di me Sto per essere inghiottito Da un alito Fetido Si è fetido Questo alito Se ti fa danno Può solo essere quello Ora si avvicina Dobbiamo tenerlo Più Più Come dire Eh E ti ritira la mano Tipo Cos'è una talpa La ritira E mi manchio anche stavolta Bravo Qua bene ma non benissimo Guarda dove devo andare Per vincere una boss Qua non so come colpirà Ah Già Già Semplice così Dai Ah Ah era così Così facile Ciao Come dicevo I bracciali erano L'unica roba Che lo teneva Teneva nella superficie Dell'abisso Adesso Come abbiamo fatto Noi abbiamo distrutto I bracciali E di conseguenza Se ne è tornato Nell'abisso Più abisso Noi abbiamo distrutto Nell'abisso wow ce l'avevamo fatta accendi falò però adesso voglio leggere la descrizione dov'è leggiamo descrizione anima anima eccola qua allora vuol dire signore di cartus condannò innumerevoli anime e morti a morti atroce perché era suo desiderio vivere in eterno non ho capito bene mi sa che muto quindi la catacombe per ottenere la vita eterna e quindi e quindi mi sembra che sacrificando insieme che sacrificano tutte queste persone abbia tirato l'abisso almeno così penso mentre dov'è il tomo guardiano della cripta sì 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 tomo sulla pieromanzia del guardiano della cripta delle catacombe di cartus portano al vecchio maestro piroma ok vabbè il signore supremo vuol dire di cartus cedete all'abisso ma pieromagna di venne in seguito un gradino della cripta e scoprì la fiamma nera interessante uno mi ha scritto bel lavoro buona fortuna l'unico che almeno ti augura qualcosa ma qua siamo usciti siamo usciti dalle catacombe finalmente c'era una puzza di vecchi olimi gli reti della valle boreale certo che sì quella di sopra è proprio quello che pensate che sia ecco non vi dico chi è chi ha intuito bene chi non ha intuito intuirà nei prossimi viso no non è finito qui se non sarebbe troppo corto c'è ancora una piccola side quest che mi sa che se ne siamo dimenticati tutti ma io no ma io no andiamo su per il ponte che ho visto aiuto sì sono terrificanti questi io me ne vado come che se non ci diamo questo qua non possiamo ma cosa tutta la vita no 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 vedete come è rapido ah ah non ci arriva con indietreggiato per fare una specie di carica ho preso una ecco qua dovete schivare e basta però relativamente li facciamo facciamo dicevo abbastanza danno si sono caduto sono caduti ma è rapidissimo vedete che roba non uso nec le bracci perché già ne ho pochissime ma davvero pochino le ho buttate negli scorsi episodi no questa volta e questa volta era un treno o ti prende ti toglie tutta la vita oppure ti ho veramente veramente una roba è veramente un cancro questo qui non so una loro su questi è un treno quando ti arriva addosso e dicevo o ti toglie tutta la vita con quel assalto con quella presa lì oppure oppure ti salta addosso e ti fa un male non poco ma veramente ma chi è che secondo la loro queste sono creature sono dei lupi coccodrilli creati da da mi sembra sia sul divano di gran sacerdote che faceva che come potete intuire era un seguace di alderich e seguaci di alderich fanno di tutto per servire per servire loro signore e quindi se non ho non sono un esperto di biologia ma è riuscito a creare che queste creature che sia non so come non so se c'è l'alchimia qui ma no ultimo ultimo o ce l'abbiamo fatta parlando di loro mi sono mi sono potenziate quindi occhio destra del sacerdote questo qua potrebbe darci una grande mano in senso di loro potenti a tutti anello maledetto donato dal gran sacerdote sullivan e sui cavalieri potenti agli attacchi se effettuati senza sosta i cavalieri che scrutano nella sfera nera vengono attratti in un incubo di guerra e sangue e trasformati in bestia rabbiosa non stupisce che il gran sacerdote doni questo anello solo a chi viene inviato in terra straniera cavaliere della missione probabilmente vi ricordate no mi sa quello la con la spada di ghiaccio faccio vedere uno che aveva stato tipo di spada qua che era piuttosto nei primi episodi verso qui ci potevate passare solo se avevate un oggetto in particolare ossia ho detto ossia eccola qua bambolina bambolina l'argento raffigurante un giovane scudiero nella leggendaria iriti della valle borreale il gran sacerdote sullivan o salivan non so come si pronuncia consigna questa bambola i migliori terzi sudditi sì sì che potessero usarla per attraversare la barriera al momento del loro ritorno se ascolti attentamente la sentirei dire ovunque andrai la luna continuerà a tramontare iriti ovunque andrai iriti sarà sempre la tua casa mh interessante qua c'è il falò però non è finita qui questa cosa l'ho fatta perché muschio blu ghiaccio muschio blu ghiaccio un secondino prima dobbiamo mettere la bra si si ve l'ho già detto ne ho pochissime quindi devo limitarle proprio al mini a questo non l'ho visto al minimo qui c'è un segno di evocazione ma solo dopo aver distrutto quel quell'essere quelle come si chiama o magari può darsi che non lo troviamo eccolo qua eccolo qua eccolo qua ecco vuoi rispondere alla chiesa di siris dei regni della penombra e fare devo vedere come fantasma questa è la sede quest 15 si è stato evocato spero di non farmi massacrare e siamo arrivati nel suo mondo lei e siris o almeno se si degnassi di aspettarmi aspettami ma niente allora contro chi sia craigton il vianda o ricordi di dark suz 2 e però ti stavo bene con questa squadrona eh dobbiamo stare attentissimi all'ascia perché fa danno fa avete visto avete visto con un colpo quanto mi ha tolto però se vuoi solo su di me fa la carica mi la carica è tremenda però lei allo spezza corazze benedetto e quindi attacca in successione senza lasciarli respiro non dobbiamo neanche farli bere estus aia no e la bevuta e la bevuta a sto punto io meglio se mi potenzio un pochino si è l'abilità della spada non sono stato io a inventare qualche qualche miracolo no mi sa che si a estus però davvero limitate non come me che ne ho dieci ne avevo dieci sono cina 4 perché uno ho dovuto usare però sta va bene sta va bene questo spadone ecco forse anche uno dei motivi per cui qui lo scelto se faceva la che ecco ha finito l'estus il tipo fermo lì dove vai no col cavolo tutta la vita tutta era diretto verso di me vedevo la cattiveria nella sua maschera occhi trattino maschera che si riesmi poi passare un po di quella magia perché mi servirebbe non so se si può infondere no nel senso so se lei non deve morire mi sacrifico io per ai le cure allora avevo morire lo stesso no nulla mi dispiace potente altro colpo potente no mancato mancato vieni verso di me o non hai scattole per venire da me no non ci provare brutta non è morta non è è morto anche lui però però è morto anche lui dovere compiuto conta vero conta vero conta vero di temi che conta ma contava come boss fa come 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 si chiama non so io ci vedo è in caso la rifaccio la rifaccio senza senza registrare che non avete capito come si batte dovete menarlo menarlo e ancora menarlo se non ha funzionato niente di che lo rifaccio sia funzionato bene allora passiamo e poi posso darvi l'addio come avete visto non è stato sì l'episodio sarebbe a proposito del boss però non è stata la la causa principale cioè quello è il castello di lottri che bello che non è stata proprio la il motivo principale siamo stati più sulla sulle side quest piuttosto però però il boss non era una robata a scuare anche se una loro potevo anche farla su series invece adesso non ho una loro ben precisa a fine fai di questa fine side quest vi farò una loro un po più un po più dettagliata dopo questo spero che il video vi sia piaciuto e spero che continuerete a seguire questa serie come come finisco ok siamo a tutti intanto che torno mi invadono da di là ma non volevo concludere debito di bellezza quindi lo dedico a al cielo non trovavo niente quindi lo dedicherò al cielo no non usare fammi per non usare fammi per io sono a già le magie sto dannato la coroncina quella lì che male e male sia ma me ha fatto male alla cronci ok adesso basta però è non davvero o non va si è andato funziona no l'ho mancato l'ho mancato ops non ha funzionato però pensavo di toglierli davvero meno tu sei uno di quei maledetti che usano la magia vero beh un cattivo quella ha fatto male bene non dobbiamo farci prendere altri colpi ops no mancato ah beh dipende o concluderò in bellezza concluderò in bruttezza cavolo ma preso secondo colpo maledetto fortuna che hanno un'ampiezza limitata no vai ops mi dispiace davvero a così impari a invadermi più questi invasori a fine episodio proprio non li sopporto